Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele Baratti e sono colui che gestisce la divisione Life Science per Urai. Quando sono stato invitato a questo speech ho guardato il titolo, essenziale, mi sono chiesto cos'è effettivamente l'essenziale e allora sono andato un po' a studiarmi l'etimologia. Essenziale viene dal tardo latino, essenzialis, da cui poi deriva essenzia e quindi essenza e mi sono detto vabbè cerchiamo un attimino le definizioni che la nostra letteratura, la scienza, l'arte, danno di questa parola. In letteratura è facile, si va sulla Garzanti, si va sulla Treccani e si scopre che l'essenziale è quello che costituisce l'essenza di una cosa, punto a capo, cioè mentre invece sulla Treccani si dice la cosa più importante, la cosa indispensabile. Ora il contrario di essenziale è accidentale, accessorio, questo già ci aiuta ad avere una definizione un po' più chiara. Ancora più bella la definizione della scienza, in mineralogia c'è una definizione che dice che l'essenziale è il componente che determina la natura della roccia, una sineddoche praticamente, quindi un qualcosa che definisce una parte per il tutto. Se poi dovessimo spostarci sull'arte, sulla musica, sulla letteratura, beh allora io non sono un grande fan di Mengoni, però l'essenziale chiama la canzone di Mengoni, ho dovuto andarmi a leggere il testo perché non lo conoscevo a memoria, il testo dice mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini e torno a te che sei per me l'essenziale ancora una volta. Quindi il contrario di eccessi e cattive abitudini. Invece una cosa che è un po' più cara a me di quanto non lo sia Mengoni è il piccolo principe, tutti quelli che sono cresciuti negli anni Ottanta l'hanno letto, Antoine de Saint-Exupéry diceva in un passo in cui la volpe si sedeva a fianco al piccolo principe, diceva guarda è molto semplice, non si vede che con il cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. Questo vuol dire fondamentalmente che l'essenziale è quanto di semplice che ci tocca nel profondo. Addirittura Leonardo da Vinci diceva la semplicità è la suprema sofisticazione, quindi la cosa più bella che possiamo vedere. Però noi facciamo cosmetica, quindi è essenziale e dobbiamo anche unire cosmetica. L'etimologia di cosmetica invece viene dal greco, da cosmos, che poi si declina in cosmesis, che sta per mettere ordine oppure abbellire. Quindi la cosmetica essenziale, cosmetica più essenziale diventa l'essenza del bello, diventa quella parte indispensabile di un prodotto di bellezza che si libera di tutto ciò che è accidentale, di tutto ciò che è inutile e di tutto ciò che è accessorio. E fin qui gran filosofia, bellissimo ne abbiamo parlato, ma concretamente di che cosa stiamo parlando? Concretamente la cosmetica essenziale è quella che contiene prodotti con quattro caratteristiche principali. La prima, un minimo contenuto con un massimo risultato. La seconda, materie prime che non pesano sull'ambiente che ci circonda. La terza, materie prime commercializzate in maniera responsabile. La quarta, una comunicazione di tutto quanto abbiamo detto fino a questo momento trasparente ed efficace. Ora, Urai, l'azienda per la quale lavoro, è un distributore. E un distributore cosa può fare per andare nella direzione della cosmetica essenziale. Beh, può sfruttare il proprio know-how per distillare dal mercato solo quelle materie prime che danno la massima soddisfazione, senza componenti o accessori inutili. Quindi torniamo un attimo ai quattro punti. Riprendiamo il primo? Minimo contenuto, massimo risultato. Beh, Urai valida dal punto di vista regolatorio le materie prime. Urai valida la performance delle materie prime nei laboratori. Urai valida la qualità delle materie prime. Tra l'altro la rivalida, cioè il distributore medio si fida, si fida del proprio fornitore. Noi no, noi ci fidiamo certo del fornitore, ma in parallelo rivalidiamo. E cerchiamo di fornire sempre di più materie prime pure, materie prime con poca acqua, materie prime multifunzionali. Chiedo scusa. E materie prime, secondo punto, che pesano un gran poco sull'ambiente. Ora, il peso sull'ambiente è quello del distributore e quello delle materie prime. Due lati. Lato numero uno, sull'ambiente il distributore pesa un gran poco, quindi pesa forse in termini di energia? Noi no, perché compriamo energia rinnovabile. Pese in termini di flotta aziendale? Noi no, perché abbiamo una flotta prevalentemente elettrica. Pese in termini di eventi? Ancora una volta noi no, perché tendenzialmente tutti i nostri eventi vengono completamente compensati con opere di piantumazione in Amazzonia. Lato materie prime, lato fornitore, invece, scegliamo delle materie prime che abbiano una carta di identità verde, quindi che abbiano subito un ciclo di life cycle assessment e che quindi, in italiano, abbiano validato le emissioni del proprio ciclo di vita. Arriviamo all'ultimo punto, anzi al penultimo, una materia prima che si commercializza in maniera responsabile da un punto di vista etico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista ambientale etico, vabbè, la nostra azienda Urai e Covadis ha un codice etico che viene proposto e fatto firmare anche a tutte le aziende fornitrici. Sociali, cerchiamo fornitori che abbiano una parte attiva all'interno delle comunità locali. Noi per primi, ogni anno, effettuiamo donazioni negli istituti ospedalieri di Milano. E ambientale, oltre a quello che abbiamo detto, ci assicuriamo anche che la filiera dei trasporti sia certificata. Tutto questo si riassume con una parola sola, che è sostenibile. La comunicazione è l'ultimo punto. Ora, tutto bello quello che abbiamo detto fino adesso, ma dobbiamo fare in modo che la gente abbracci in maniera trasparente questa filosofia. Ne facciamo della trasparenza il nocciolo della nostra comunicazione e la comunicazione tal quale è quello strumento fondamentale che ci permette di fare in modo che l'essenziale tocchi il cuore. Quindi che l'essenziale effettivamente si sviluppi, tocchi il cuore. Noi comunichiamo in mille modi. Quindi, in chiusura, la cosmetica essenziale è quel componente che arriva a toccare il cuore, le corde delle persone. A noi distributori l'arduo compito di esserne il cupido. Ora, grazie. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a Tecniche Nuove per l'occasione che anche quest'anno ci ha dato per l'organizzazione del bel evento. Ricordo a tutti di venirci a trovare sui nostri social, sul sito, su LinkedIn, su YouTube e anche di partecipare al nostro piccolo evento che sarà fino a ottobre. Grazie a tutti e alla prossima.